Il calcio giovanile, nel corso dell'ultimo fine settimana, ha regalato derby emozionanti e grandi soddisfazioni per le squadre di Giarre e Riposto. Spicca in particolare la sfida clou nel girone C del campionato regionale Juniore stra AS di Giarre e da Cireale. I giovani gialloglu, sul campo di San Giovanni Montebello, hanno regolato i parietà Granata con uno spettacolare 5-2. Grande prova per i ragazzi guidati da Pino Lafornara, che adesso, dopo 5 partite giocate, guidano la classifica a punteggio pieno. Sono 4 i punti del Giarre Juniores sulla russo calcio seconda, piegata invece in trasferta dall'ACI Sant'Antonio con un netto 3-0. Soddisfazioni che invece, per la compagine ripostese, sono arrivate nel campionato allievi provinciali grazie alle vittorie per 3-0 sul città di Giarre. Nello stesso girone il junior Giarre è stato sconfitto per 3-0 dal Calatabiano. La classifica vede premeggiare il Ioni a calcio riposto a 13 punti, mentre i ragazzi della russo calcio occupano la settima posizione con 6 punti. Chiudono la graduatoria Città di Giarre e Junior Giarre, rispettivamente con 2-0 punti. Passando al basket, turno di riposo per l'Under-18 di Simone D'Urso, che dopo l'ultima straripante vittoria sul berpasso per 89-48, scenderà nuovamente in campo il 10 dicembre contro il Gravina B. Nel volley, fine settimana povero di soddisfazioni per le squadre giovanili del Papiro Fiumefreddo. Nel campionato provinciale di prima divisione maschile è arrivata una sconfitta per 3-2 a Palagonia. I ragazzi dell'Under-15 hanno invece ceduto 3-0 alla Rumi-78, mentre le ragazze dell'Under-16 sono state battute con l'identico punteggio dalla Giavipedara Volley.